buongiorno sono gianni bianchi presidente dell'associazione di s lombardia faccio i miei auguri di buona pasqua a noi tutta l'associazione agli associati ai nostri amici insegnanti che stanno combattendo ormai con la data sistematica buona pasqua la nostra speranza non è la tecnologia o i vaccini o i disinfettanti che sono qui di fianco a me ma è la presenza di un uomo che si è detto dio che è morto e risolto buona pasqua a tutti e auguri